Lino D'Angio, è Campania e sicuramente anche Pulcinella. La sua maschera, una storia, una tradizione, una Napoli che deve ritornare ad essere un po' Pulcinella? Guarda, io penso che Napoli è sempre stata Pulcinella. Non è un caso che questa maschera ci accompagna da sempre. La facciamo vivere continuamente sia nel teatro ma anche nelle canzoni. Credo che Pulcinella sicuramente è sempre vivo, anche attualmente, e quindi è fondamentale. Tra le mani hai una maschera, non è un caso quella di Pulcinella. C'è una storia legata a questa maschera? Quando pensai alla maschera, pensai che comunque la tradizione nostra napoletana, che è forte, enorme, capita che alle volte è anche ingombrante. Nel senso che il teatro noi ce lo portiamo dietro ed è enorme, il teatro napoletano, Scarpette, Eduardo, Petito, sono proprio figure enormi con cui non possiamo staccarci. La musica, la canzone, è la stessa cosa. Quindi paradossalmente noi viviamo in un momento storico in cui abbiamo anche difficoltà a modernizzarci. perché il nostro patrimonio culturale è talmente enorme che ci tiene legato. Allora io dico spesso nei miei spettacoli che noi siamo in un momento in cui siamo a metà tra il mandolino e l'iPad, perché non sappiamo bene ancora dove muoce. Allora pensai di fare questa maschera bianca, un po' perché quando la pensai era il 2003, quindi dieci anni fa oltre, comunque era un periodo, ancora poi dopo, la spazzatura, non so che tra spazzatura, era questa immagine di Napoli, io so che è nero, cioè quindi una maschera nera. E poi, che ne so, la camorra cronaca nera, cioè sta nera. Mi venne di pensare di farla bianca. La campana avrebbe bisogno di questo velo bianco per ritornare ad essere un po' candida. Sì, sì, è vero, anche questo, no? Cioè il bianco mi dà un senso forse di purezza che dovremmo avere o quantomeno anche ottenere dagli altri, no? Perché purtroppo oggi con i mezzi di comunicazione, voi ne sapete qualche cosa, è facile portare avanti ecco situazioni purtroppo sempre negative, no? Un po' di leggerezza, come hai detto giustamente, di questo velo leggero bianco come era Pulcinella, perché poi Pulcinella la maschera era nera ma lui era bianco e il corpo di Pulcinella era molto leggiadro, molto leggero. Magari appunto la maschera nera trasmetteva una nerezza di animo forse, no? Ma lui era un leggiadro, un salto in banco, un guitto del teatro. Dove sarà Lino D'Angione la prossima stagione teatrale? La prossima stagione è che sto portando in scena questo spettacolo che si chiama La Grande Voglio fare il Sindaco, che mi sta dando belle soddisfazioni, che non so dove andrà a finire, magari potrei anche candidarmi veramente, perché io gioco su questo fatto che avendo cominciato con Bassolino, no? Avendo fatto tanti anni Bassolino, Aiervolino, oggi anche De Magistri, sono fatto per tanti anni il Sindaco per fine, che forse potesse farlo veramente, quindi quasi quasi. E allora è una sorta di comizio dove io cerco di dimostrare di poter essere Sindaco di Napoli, lo stiamo portando in giro, ho fatto il Maschio Angioino un paio di settimane fa nella Rassegna di Ridere, mi sono divertito molto, perché poi è una bella cornice, e ora andrà un po' in giro in un po' di teatro. E cos'è Campania per Lino D'Angione? Cioè il turista io penso che dovrebbe venire in Campania, chiaramente non cane i printasacchi se dice andavo, perché non potrebbe, cioè dovrebbe capire che se viene in Campania dovrebbe stare almeno tre mesi, cioè ma infatti io penso anche per questo c'è esistente tanta gente che poi non se ne va più, ovviamente, ma no perché non ce la fa a finire tutto il giro, capito? Cioè quello il problema è che siamo gente che è venuta qua e è rimasta qua, ma non per lavoro, sono turisti, sono turisti che però non hanno finito ancora il giro per tante le cose che teniamo noi in Campania, che giustamente chi dice, io ci avevo un biglietto, quando ho finito di vedere tutto tanto me ne torno in paese. E c'è questa gente che sta qua, 10 anni, 15 anni, perché tante le cose che da vedere. Grazie a tutti.